Ciao grande, bentornato al corso per chiunque parta da zero con Instagram. Oggi voglio parlarti della differenza tra stories e video. Allora, devi sapere in primis che Instagram nasce proprio con lo scopo di avere contenuti veloci. Al contrario di Facebook, quindi, i video che puoi pubblicare al suo interno sono massimo di un minuto. Per quanto riguarda le stories, invece, sono massimo di 30 secondi, anche se puoi farne più di una. Quindi se devi mettere più contenuti e magari il video ti dura 2-3 minuti, diciamo che è la cosa migliore da fare. O fare più stories, quindi suddividere il video, oppure, ancora meglio, sarà inserirlo nell'IGTV. Cosa stavo dicendo? Non lo so neanch'io. Quindi, IGTV è prettamente un sistema per chiunque voglia approfondire l'argomento di Instagram perché è rivolto proprio alle persone che vogliono passare al livello avanzato, quindi passare dal livello base al next level e approfondire le conoscenze di Instagram per diventare magari un social media manager. Per cui, questo è uno dei pochi argomenti che non troverai nel corso base. Quindi, l'IGTV, l'advertising, come fare un catalogo e una vetrina prodotti, troverai tutto all'interno del corso avanzato. Ma questo lo vedremo strada facendo più avanti. Adesso voglio parlarti principalmente di questa differenza, quindi, tra le stories e i video. Per quanto riguarda le stories, le stories sono prettamente per interagire con il pubblico. Quindi, ricordati quello che ti ho detto nelle prime video lezioni. Instagram è ritenuto un diario multimediale, quindi più cose condividiamo all'interno delle stories, più i fan, i follower capiranno la nostra storia giornaliera. Quindi saranno molto gasati, molto contenti di seguirci, soprattutto se trasmetteremo loro contenuti di valore. Ora, per quanto riguarda le stories, andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Allora, le stories sono... Scusate, ma si blocca un po' il sistema, se metto le stories. Comunque voglio farti vedere principalmente di cosa parliamo. Parliamo di effetti, tipo ad esempio questi, che sono principalmente per chiunque voglia trasformare la propria faccia. Vedete, fate uno scatto, scegliete i colori, cambiano in continuazione. Quindi, niente, vedete fiori, cuori, tantissimi cuori, e filtri vari. Il cane c'è sempre, sappiatelo, quindi potrete trovarlo in qualsiasi momento. Ecco, queste sono le classiche per far divertire le persone. Se volete qualcosa di più professionale e più simpatico, anche per rendere il tutto più carino, io mi affido spesso ai super zoom, soprattutto a tristezza. Tipo, una volta ho fatto tardi il treno, ho avuto un ritardo, ho inquadrato la tabella dei treni, e ho messo dove è, ah eccolo, tristezza, tristezza è bellissima, guardate. È spettacolare, sono davvero filtri pazzeschi. Pazzeschissimi, e soprattutto adesso magari andremo a vedere, io ti consiglio di dare un occhio a Cacomela, è una grande, che secondo me pubblica semplicemente contenuti di valore, ma talmente simpatici con l'aiuto dei filtri, che ti fai davvero tantissime risate. Quindi, ecco, adesso purtroppo non ce ne sono, però posso assicurarti che i suoi sono davvero delle stories che vanno seguite, perché è divertente. Un'altra cosa che puoi fare all'interno delle stories è inserire, quindi possiamo inserire il boomerang, che è semplicemente così, cioè velocizza praticamente la cena che stai facendo. È fantastico per quando vuoi fare il brindisi, che inquadri i bicchieri. Il super zoom, te l'ho già spiegato, poi abbiamo il ritratto. Guarda, la cosa che voglio consigliarti è sbizzarrisciti qui sopra. Puoi fare ovviamente video in diretta, per interagire direttamente col pubblico, puoi inserire addirittura la musica, per il tuo stato d'animo magari. e poi, questi si tratta, cioè io ti sto spiegando adesso le stories in movimento, quindi principalmente ti sto spiegando come fare dei mini video al suo interno. Ma se noi vogliamo fare una foto, in questo caso mi sono fatta un selfie anche mosso, voglio farti vedere come possiamo inserire un tag, tipo inserire il nome di una persona, metto quello della mia socia, la Jessie, e una delle mie socie, quindi puoi modificarlo come vuoi, con i colori che vuoi, puoi taggarla, oppure puoi addirittura inserire la musica, se ce l'hai, perché la musica dipende dal dispositivo, sia in Samsung, sia in Huawei, varia a seconda proprio del telefono la musica. Puoi mettere anche un sondaggio, tipo dove andare Spagna, oppure Francia. Le persone risponderanno al sondaggio, e poi potrai pubblicare i risultati, è davvero pazzesco interagire con i fan e i follower in questo modo. Io ti garantisco che le persone saranno sempre più attratte dai tuoi contenuti, se tu fai interagire con domande e risposte il loro interesse. Quindi posso garantirti che otterrai risultati pazzeschi, straordinari, solo facendo questo, pubblicando stories. Ecco, l'ultima cosa che voglio farti vedere, per rendere tutto ancora più interessante, sono, ah guarda, ci sono addirittura le domande, puoi dare la possibilità alle persone di farti una domanda, e questo è davvero senza impagabile, davvero impagabile, perché dai la possibilità magari a persone che ti seguono, che vogliono una consulenza con te, di farti delle domande, magari di valore, a cui tu puoi rispondere eccezionalmente, quindi è fantastico. Stessa cosa per il quiz, anche il quiz è davvero rinomato, ed è stato aggiunto proprio quest'anno, nel 2019. Anche il countdown è molto utile, per chiunque è in partenza, per chiunque abbia un evento importante, e farlo sapere magari i follower, per far sì che essi partecipino. Un'altra cosa simpatica sono le GIF, le GIF sono micidiali per qualsiasi foto, che si voglia pubblicare, potete trovare qualsiasi parola sopra, tipo digital, pazzesco, guardate quante, guardate quante, se mettete pc, computer, troverete il mondo, davvero il mondo, vi consiglio di metterle in inglese, perché in italiano troverete ben poco. Una cosa importante nelle stories, che attrae moltissimo le persone, è il luogo, perché quando le persone si regalano in un luogo, fanno una stories e mettono la destinazione. Tutte le persone che mettono quella destinazione, spesso vanno a cercare altre persone, che siano state in quel momento, nel loro stesso luogo, quindi potresti anche essere seguito, da queste persone che fanno queste determinate ricerche. Un'altra cosa quindi adesso di cui parlare, è l'ultimo argomento di questo video, è proprio il video, quindi come fare i video. Ecco, in questo caso adesso c'è Tiloz, che è un'attrice, che io seguo, che fa spesso video. Ecco, i video hanno la durata al massimo di un minuto, quindi fai sì che in quel video tu possa dire in breve, tutto quello che ti passa per la testa, o tutto quello che vuoi far vedere ai tuoi follower. Il video può anche, al contrario delle foto, diciamo che i follower che vedranno il tuo video, vedranno solamente le visualizzazioni. se ci fai caso qui sotto, ci sono semplicemente le visualizzazioni, e anche il numero di persone a cui piace. Però è molto utile, soprattutto per chiunque voglia vedere quante persone hanno visualizzato quel video in quel momento. Certo è che più metterai la posizione, più metterai i tag, più gli hashtag inerenti, in target, in quel determinato video, a seconda proprio dell'argomento che tu pubblicherai, più saranno le persone che metteranno like e i follower. Ricordati sempre che la ricerca degli hashtag è determinante e importante per far sì che il tuo post cresca. Quindi a seconda della foto, a seconda del video, impegnati a ricercare l'hashtag più performante per te in quel momento. Quindi adesso direi che questo video è terminato, passeremo al prossimo argomento e ti aspetto nel prossimo video. A tra poco!